Dopo il momento del cordoglio e del lutto, gli operatori, la città, hanno bisogno di dimostrare che è venuto il tempo del coraggio, di fare scelte importanti, votate ad una visione di città-porto più evoluta. Non è un caso che noi all'indomani di quanto è accaduto abbiamo lanciato, anche un po' provocatoriamente, delle proposte legate all'operatività H24, allo shuttling nel retroporto. La convinzione che noi abbiamo è che di fronte ad una tragedia di straordinaria magnitudo, non si può pensare di trovare soluzioni ordinarie. Dobbiamo avere anche il coraggio di far nascere da questa tragedia una città e un porto che guardino a standard e a dimensioni diverse. La disponibilità di lavorare H24 da parte degli spedizionieri vuole essere testimonianza di una categoria che vuole dare il tutto per tutto, che non vuole perdere un chilo di merce, che vuole dare certezza al mercato. Da solo non lo possiamo fare, abbiamo bisogno di un'amministrazione forte, di un governo che sappia prendere decisioni ma che deve decidere. Questo è un tema fondamentale. I mercati internazionali, una volta che le lacrime si asciugano sulle guance, guardano i bilanci e fanno scelte in relazione a cosa gli conviene di più fare. Quindi se non avremo un set di proposte convincenti, legate ai tempi, all'economicità e ad una visione di efficienza del porto, che sappia fermarsi, perderemo del lavoro. E nel momento in cui perdiamo del lavoro, riguadagnarlo significa spendere dieci anni di tempo. Questo non ce lo possiamo permettere perché intorno a questo tavolo, e non solo intorno a questo tavolo, ci sono imprenditori, compagnie, spedizionieri, agenti, terminalisti che hanno investito decine e decine di milioni di euro, che credono in questo porto. E dunque è giusto e necessario dare il 100%.